Cosa sono i learning test e come utilizzarli? Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a vedere cosa sono i learning test che ho trovato spiegati in Clean Code. Nel libro Clean Code, questo qui di Robin Martin, vengono citati i learning test che sono dei test che andiamo a scrivere quando dobbiamo interagire con API o librerie di terze parti. Quello che spesso capita è che noi leggiamo della documentazione su come dovrebbe funzionare una libreria o un componente di terze parti e poi cominciamo magari a fare delle prove direttamente nel nostro sorgente di produzione. L'approccio invece che viene proposto è quello di scrivere degli test che prendono il nome di learning test, quindi dei test di apprendimento, dove andiamo a sperimentare con la libreria questo componente di terze parti, andiamo a vedere se abbiamo compreso bene il funzionamento come è spiegato nella documentazione ma soprattutto se è conforme a quello che c'è scritto nella documentazione. Tanto delle prove comunque avremmo dovuto farle nel nostro software vero e proprio, nel nostro codice di produzione. Quindi tanto vale la pena farle in un progetto a parte, in un progetto di test, dove anche andiamo proprio a documentare i comportamenti attesi oppure quelli che sono i comportamenti reali perché molto probabilmente la libreria si comporterà in maniera leggermente diversa a quello che è documentato oppure come ci aspettavamo. È un po' un concetto che possiamo prendere dal mondo manufatturiero delle aziende appunto di manufacturing che hanno il controllo qualità in ingresso dei componenti, dei pezzi, dei semi lavorati che arrivano da terze parti, dove il materiale viene più o meno scrupolosamente, più o meno rigorosamente controllato in maniera tale che sia conforme alle specifiche. Ecco, anche noi nel mondo del software dovremo apprendere, come ha fatto tantissimo la metodologia DevOps, del mondo manufatturiero ed essere quindi più responsabili dei componenti di terze parti che utilizziamo perché al nostro cliente ora della fine non gli interesserà sapere che il nostro software ha introdotto un bug perché è cambiato il comportamento di una libreria di terze parti. Siamo sempre noi a fornirglielo. Andiamo subito quindi a vedere un esempio di una libreria che io ho scritto che dovrebbe formattare del testo in Markdown, molto semplice, che la considereremo la libreria di terze parti. E andremo a scrivere dei learning tester, lo faremo sfruttando anche la sintassi Gherkin, quindi una metodologia, la Behavior Driven Development, dove andiamo a esplicitare ed enfatizzare per bene i comportamenti che ci attendiamo da questo componente. Entriamo subito nell'ambiente di sviluppo. Allora, per implementare i miei learning test vado ad utilizzare un progetto SpecFlow che mi permette di usufruire di tutte delle funzionalità, di metodi d'aiuto praticamente, quindi è un framework che mi permette di scrivere agevolmente Gherkin e quindi fare Behavior Driven Development per scoprire come si comporta questa libreria di terze parti. Allora la chiamiamo così, siccome la libreria di terze parti è Lime.Formatter, la chiamiamo il formatter learning, che vogliamo imparare come si comporta questa cosa. Facciamo Create, utilizzo XUnit perché ho una leggera preferenza, ma poco cambia per la dimostrazione del concetto. Quindi qui abbiamo un progetto pulito di SpecFlow, vado ad aggiungere la dipendenza alla mia libreria, Lime.Formatter, faccio OK, ecco che ho la libreria di terze parti che voglio testare correttamente agganciata al mio progetto. Vado a pulire un po' di nomi, questo non è Calculator.feature ma sarà Formatter.feature e anche qui avremo Formatter Step Definition, Formatter Step Definition. Qui dentro la feature non si chiama Calculator ma è Formatter e qui scriviamo che sono learning test per capire come si comporta la libreria di terze parti Lime.Formatter che permette di formattare il test che permette di formattare il resto in modo in Markdown. Perfetto, che permette di formattare il test in Markdown. Qui come tag utilizzo L0 perché mi piace utilizzare questa topologia dove L0 sono i test di unit, quelli che girano nel memoria senza le dipendenze. e andiamo a scrivere il nostro primo scenario, cioè formattazione del testo in grassetto. Quindi, dato che ho una istanza di formatter, ok, quindi quando si chiama il metodo bold con il testo ciao Danny, il risultato deve essere ciao, grazie GitHub Copilot, abbiamo capito. Quindi, con la sintassi BDD, Gherkin per descrivere il BDD quindi dato che ho una istanza di formatter quando chiamo il metodo bold con il testo ciao, allora il risultato deve essere ciao. A questo punto vado a compilare, tutto questo diventerà viola perché sono degli step che non sono stati implementati nel rispettivo file e andiamo a farlo. Quindi pulisco questa classe vado a prendermi questi tre metodi faccio define step, copy to clip or degli metodi qua e faccio ctrl V Per effetto, quindi ho lo scheletro dei miei given when then con dentro un through new sostanzialmente not implemented Andiamo ad eseguire i test giusto per vedere tutto rosso faccio run all test così anche vediamo se compila in questo modo build succeeded e poi dovrebbe comparire il nome del test con un bel rosso e infatti abbiamo step test pending non implementato Andiamo ad implementare il primo step del mio test cioè dato che ho una istanza di formatter Allora formatter è così var formatter uguale new formatter però devo mettere uno using qua sopra line.formatter Ok, allora questo mi diventa formatter è una questione di namespace che non ho fatto proprio in maniera super furba ma mi viene così Allora questo formatter faccio un bel lo devo mettere nel contesto del mio test ogni test che io eseguo ha un contesto che viene pulito di volta in volta quindi devo mettere questo formatter nel contesto perché poi deve essere accessibile dalla parte when quindi qui lo creo il formatter e poi qui andrò ad utilizzarlo per passarsi le cose tra un metodo e l'altro vengono messe in un contesto comune chiamato scenario contest che vado a predisporre quindi faccio un costruttore ktor tab tab qui è scenario context lo chiamo scenario context che mi viene popolato in automatico dal framework specflow e andrò a fare context uguale scenario context a questo punto non mi resta che fare generate field e questo ci siamo vado ad aggiungere nel context punto set gli dico il formatter quindi ho creato l'oggetto che mi rappresenta il contesto del mio test e ci vado ad inserire dentro il formatter a questo punto when si chiama il metodo bold con il test prima mi vado a recuperare l'istanza di formatter ok quindi sarà un context get formatter formatter soprassiedo diciamo sui dettagli di specflow ma fidatevi mi viene restituita l'istanza che ho impostato prima a questo punto faccio formatter.bold di testo quel ciao non mi piace allora e a questo punto actual result e vado a impostarlo nel contesto context punto set actual result benissimo e ci vado anche a mettere una key per recuperarlo dopo actual result e lo faccio così costante formatting actual result sono vecchi a scuola mi piacciono le costanti così c'è chi non sarà d'accordo ma tant'è allora a questo punto vado a fare l'asserzione per vedere se il risultato è quello che deve essere quindi me lo vado a recuperare andrò a fare context punto get so che vado a ottenere una stringa che ha chiave formatting actual result should be expected result perfetto poi così dovrebbe starci e abbiamo implementato tutti gli step given when and then quindi l'inizializzazione l'effettivamente chiamata al metodo e il controllo del risultato andiamo ad eseguire vado a fare run all la build parte e abbiamo che la libreria si sta comportando come si deve andiamo avanti andiamo ad esplorare la funzionalità diciamo del corsivo quindi io prendo questo copio e incollo tutto e lo chiamo formatazione del testo in corsivo ho guardato la documentazione della libreria e ho visto che il metodo si chiama italic a questo punto questo qui è da implementare che è andato in viola faccio define step copy to clipboard e me lo vado a portare qui quindi quando chiamo il metodo italic con un certo testo che mi piace chiamare testo allora il risultato comunque deve essere non così ma dovrà essere così questo non è diventato in viola perché è stato riconosciuto sostanzialmente dal framework che il test è lo stesso cambia solo il il valore ok quindi tramite una regex viene recuperato e la vediamo e la vediamo la regex specificata qui allora quindi questo qui è praticamente questa cosa qua when si chiama il metodo italic con il testo devo solo sostituire bold con italic quindi mi vado a prendere il mio formatter lo chiamo con italic gli passo il testo voluto e vado a salvare nel contesto questo risultato che poi andrò a riprendere qui allora mi eseguo mi metto davanti il mio test runner faccio run all test ha trovato un test solo mi ricompilo giusto per sicurezza eccolo qua ha trovato anche il secondo faccio run vediamo cosa succede e qui abbiamo un errore abbiamo un rosso andiamo a vedere che cos'è abbiamo un comportamento anomano della libreria cioè qui mi dice che abbiamo un expected to be ciao ma in realtà con gli asterischi ce lo ritroviamo con i punti di domanda questo è uno dei vantaggi dei test test di learning i test di apprendimento quindi abbiamo una libreria di terze parti ci aspettavamo che il suo comportamento fosse una certa cosa ma in realtà si è rivelato essere qualcos'altro e questo è un investimento che vale assolutamente la pena di fare quando utilizziamo librerie di terze parti perché questo potrebbe essere magari come in questo caso voluto che abbiamo trovato un bug perché il markdown non si fa così per l'italic però potrebbe essere anche un modo per scoprire variazioni di comportamenti nelle librerie di terze parti quindi io all'inizio faccio dei learning test scopro come si comporta come viene chiamata una come devo chiamare una libreria e poi con questi test questi test fungono da documentazione che mi spiegano bene e certificano quel comportamento non a caso uso la parola comportamento che si è esposa perfettamente con il BDD behavior driven development che abbiamo scritto qui se il fornitore di questa libreria cambiasse dei comportamenti involontariamente o volontariamente così li scopriremo subito senza introdurre problemi nel nostro software e così torniamo indietro stiamo alla versione precedente e non prendiamo l'ultima versione proposta per quanto riguarda i learning test ci fermiamo qui e abbiamo visto come sono uno strumento potentissimo che possiamo utilizzare nei nostri progetti per incrementare i controlli di qualità e quindi in questo caso rivolti ai componenti di terze parti per assicurarci che il loro comportamento sia quello che ci attendiamo se questo video ti è piaciuto o hai imparato qualcosa mi raccomando lascia un mi piace e iscriviti al canale così sarai notificato delle nuove uscite ciao